Probabilmente pochi ricordano che sia stato il Presidente Alcide De Gasperi a decidere questa festività e ci è sembrato un buon motivo questo per rendere un omaggio alla memoria del Presidente De Gasperi, rinverdire la radice unitaria di questa festività. Fu Alcide De Gasperi a volere la festa del 25 aprile e la volle come momento unificante per tutti gli italiani perché è innegabile che la Repubblica nasce nella lotta al fascismo e nella resistenza. C'è una festa che chiudeva con un passato inaccettabile ma voleva costruire un futuro comune per tutti gli italiani. Insomma ricordiamoci che De Gasperi, e questo fa la differenza fondamentale, è dal carcere di cui l'aveva gettato Mussolini, scrive a me da Io tutte le sere recito un padre al nostro per l'anima di Mussolini perché si possa prima o poi redimere. Con le parole che furono di De Gasperi, una volontà di unire questa nostra nazione come merita di essere, al di là degli odi, al di là delle pazioni che possano indebolirla.